Ho pensato alla tua poesia stanotte. Secondo me i poeti, gli artisti e i matti hanno una cosa in comune. Che nessuno gli può dire cosa guardare e come guardarlo. Certi uomini hanno dentro un ricordo sgranato, finito nel subcosciente. Questi uomini guardano le cose per come erano veramente. Come erano prima che succedesse quello che ha cambiato tutto. Perché che è successo? Non sono io a dirlo per primo, ma una volta questo era il paradiso. Poi abbiamo peccato e è arrivata la morte. Il tempo. Questi uomini non lo sanno, ma la nostalgia che provano di fronte alla bellezza, la nostalgia del paradiso, di Dio. Queste sono solo fermaticazioni di un maestro elementare a riposo. Ma una cosa devi tenerla a mente. Curati. Chiedi aiuto quando hai bisogno. Ma non lasciare che nessuno ti racconti il mondo. Tieni il tuo sguardo aperto. Libero. Prendi me ad esempio. Io ho solo una certezza. Che qualsiasi cosa succeda, ci sarà sempre lui a tenermi compagnia. Tranquillo, adesso non c'è. È andato a farsi un giro. Ok? Dicono che stasera fanno i fuochi. Speriamo che non si spaventi allora. Anche tu orni. Grazie a tutti. Anche tu orvi. Grazie a tutti.